come risolvere così i problemi riguardo a the first center riguarda il problema del direct x12 non sopportato quindi qui abbiamo un problema sulla scheda grafica quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato dei link che ti porteranno così sulla pagina per scaricare i driver per AMD i driver per Nvidia e i driver direttamente da Microsoft riguardo al kit di sviluppo software direct x quindi in questo caso iniziamo prima con questo software andiamo direttamente a scegliere così la nostra lingua io vado a mettere italiano e faccio scaricamento una volta scaricato così il kit di sviluppo non mi basta che installare così questo software ok quindi eccolo qua ci clicco sopra faccio così e proseguo così con l'installazione per vedere se me lo fa installare faccio avanti accetto faccio no non partecipo e faccio avanti una volta installato non ti resta che poi cancellare così il setup che hai scaricato e passiamo direttamente a Nvidia app l'applicazione che ci permette di controllare così la nostra scheda grafica e di aggiornare anche i driver quindi scarichiamo così la beta è facilissimo da scaricare quindi scarica e installi così il programma ed eccolo qua vai direttamente su driver e qui c'è scritto driver game ready oppure driver studio e installi così l'aggiornamento che devi installare quindi gli ultimi aggiornamenti che hai rilasciato è del 4 di giugno vai aggiorno e vedi se ci sono degli aggiornamenti da fare come puoi vedere hanno anche rilasciato vari aggiornamenti anche per il gioco eccolo qua una volta fatto passiamo direttamente al driver di AMD ed eccolo qua driver per Windows 10 e 11 scarichi driver di Windows scegli così la tua grafica oppure la scheda grafica il tuo processore vai avanti e scarichi e installi così il tuo driver se non dovesse bastare possiamo direttamente andare su tasto destro super qua gestione dispositivi scendi fino a giugno a trovare scheda e video la mia scheda video aggiorna driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer ed eccolo qua 1660 super faccio avanti e scarico e installo così il driver per la mia scheda grafica ora non mi resta che avviare il gioco grafica ed ecco il gioco che si sta avviando senza nessun problema riguardo ai driver di DirectX 12 quindi era solamente di aggiornare la scheda grafica per il tuo computer quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao